Bene, riprendiamo la linea. Come temevo, lui è ancora tra noi. Sono fatta. Savelio Raimondo con la sua agenda della settimana in pelle umana. Esatto, sì, sì, pelle, pelle. E che ho preso tanto sole quest'estate, quando mi sono spellato, ho conservato le pellicine e ci ho fatto l'agenda. Intanto ha visto, Gramellino, fa in tempo a finire una pandemia che forse comincia una guerra. Cioè, non ci si annoia mai. Parleremo con Saviano dopo. Non ci si annoia mai, sono contento. Non so se ha sentito anche Draghi, ha detto che non si ricannida per il 2023. Sì, sì, quello l'ho sentito. E ha detto ai politici, ha ringraziato, ma ha detto che in caso di un lavoro lui se lo trova da solo. Ecco, io no. Quindi mi rivolgo ai politici all'ascolto. Eventualmente io ci sono e non sono bravo come Draghi. Però, visto il livello generale, potrei comunque fare un figurone. Lo dico, se serve. Farebbe meno danni lì di quanti non ne faccio a qua. No, non dica così, Gramellini, che io con la mia rubrica l'agenda della settimana le ho portato una cosa esclusiva. Prego dalla regia. One, oh. Scusi la mitomania. Ah, c'è anche la sigletta. Sì, sì, ormai mi ha preso così. Agenda della settimana, tutto quello che succederà la prossima settimana qui in anteprima, quindi anche voi da casa prendete la vostra agenda e segnatevi quello che succederà a partire da domani, domenica 13 febbraio quando, approfittando la giornata festiva, molti italiani praticheranno sport e per la precisione giocheranno a curling. Sì, perché dopo l'oro che abbiamo conquistato alle Olimpiadi Invernali di Pechino molti italiani si sono messi in testa di giocare a curling anche perché è uno sport effettivamente semplice. basta essere in due, una donna che butta roba per terra, un uomo che ci spazza accanto e sempre la donna che li urla dietro. Praticamente una coppia media italiana fondamentalmente. A proposito di coppie, lunedì è 14 febbraio San Valentino e ci sarà un boom di cene a lume di candela ma non per romanticismo ma per il caro bollette. Veniamo invece adesso a Giuseppe Conte che questa settimana è stato sospeso per via giudiziaria da leader nel Movimento 5 Stelle quindi i vertici del Movimento sono tutti da rifare. Ecco, martedì si deciderà se votare i nuovi vertici sulla piattaforma Rousseau la decisione verrà presa con un voto su Rousseau. Già vi svelo che non sarà Giuseppe Conte a vincere ma saranno Mahmoud e Blanco, va così. Quindi sono sempre truccate, vede, le cose. Funziona così. Dopo i guai giudiziari invece in Italia questa settimana Matteo Renzi mercoledì riceverà un rinvio a giudizio anche in Arabia Saudita però lì non attaccherà la giustizia in quanto teme di fare la fide in i cassoici. Veniamo invece a giovedì con nuove scoperte sul fronte dell'energia nucleare. Avete visto questa settimana siamo riusciti a ottenere a Oxford dell'energia nucleare da una fusione nucleare addirittura hanno proprio creato una sorta di mini stella in laboratorio. Ecco giovedì sempre a Oxford riuscirono a creare una mini stella cadente alla quale gli scienziati esprimavano il desiderio di riuscire a ottenere del nucleare sicuro. Venerdì invece sul fronte del Covid ieri ci siamo liberati della mascherina all'aperto se ne parlava, ecco venerdì prossimo proseguono a togliersi una serie di restrizioni per esempio da venerdì, segnatevelo, ci si potrà tornare a non lavare le mani potremo tornare a toccarci occhi, naso e bocca anche di altre persone e soprattutto si potrà tornare a tossire in pubblico senza gomito. Salute, salute a tutti e per concludere sabato sempre purtroppo a causa della crisi energetica la RAI per risparmiare spegnerà tutte le luci a questo studio e Gramellini andrà in onda al buio. Grande successo, d'ascolti le parole come Sanremo oltre il 60%, il picco verrà raggiunto quando Gramellini al buio inciapperà e cascherà per terra. Complimenti Gramellini, successo meritato. Successo meritato, davvero. Grazie, grazie Savero, ci rivedremo spero, no, presto. Presto, molto presto, molto presto. Non si libererà di me facilmente. Molto bene, la ringrazio. Arrivederci.